Ho sentito che quando noi ci connettiamo, noi superiamo o cresciamo 620 volte di più nel sistema iniziale di Adam Rishon. Cosa aggiungiamo noi al sistema spirituale che permette questa crescita? Rav, rispetto a Adam Rishon noi aggiungiamo tutto il suo potere, il suo intero grado, perché lui era nato come una piccola struttura che mancava di ogni interiore superficie, diciamo, un'area di superficie, diciamo, frammentando la sua anima, cioè il suo potere interiore in piccoli frammenti e spingendole lontane, risulta che la distanza tra le parti di Adam Rishon, dove ogni piccolo pezzo, ognuno di noi, si scopre che frammentando e spingendo lontane tutti i pezzi, lui ci ha dato l'opportunità che quando ci connettiamo, quando riconnettiamo i pezzi sopra il livello di separazione che abbiamo, cioè 620 volte di più, vuol dire che cresciamo in misura come creatore se noi ci connettiamo e costruiamo noi stessi come un singolo sistema. ecco perché nella connessione tra di noi noi raggiungiamo il livello del creatore fino al Signore tuo Dio, come scritto. e questo è come noi conseguiamo. è il significato di questo che quando noi ci connettiamo qualcosa cambia nei mondi superiori anche quando noi ci connettiamo nella nostra connessione noi iniziamo a conseguire in gradi sempre più elevati, stati più elevati perché noi connettiamo il desiderio di dare di ognuno quando noi acquisiamo questo desiderio del creatore e si scopriamo che la forza superiore del creatore si veste in noi così che raggiungiamo il livello del creatore ma non è il creatore il modo in cui è quello che ha rivelato è molto più di questo grazie grazie grazie